L'invivibilità urbana regna sovrana a Taranto, nel centro ma soprattutto nelle periferie. Mi trovo in via Mediterraneo, Talsano, alle spalle della Lidl e le immagini penso che siano più eloquenti di ogni mio commento. Una assoluta trascuratezza, un abbandono vergognoso, l'idea che l'amministrazione Melucci non abbia mai considerato queste zone come aree di Taranto, non le abbia mai considerate prima ancora che amministrate. Pensate un po', qui sono stati realizzati dei lavori da parte di ditte per utenze private, le ditte hanno fatto i comodacci loro, il manto stradale è stato tagliato, aperto e non ci si è degnati minimamente neanche di ricoprirlo con un po' di cemento. Pensate un po', qui si crea, vedete, uno sprofondamento, un dislivello enorme che rappresenta un pericolo e per le macchine e per i pedoni. L'amministrazione comunale ha dormito letteralmente insieme all'amministrazione comunale gli uffici preposti, penso ai lavori pubblici, perché signori cari, nel momento in cui avviene una cosa del genere, tu amministrazione comunale prendi per le orecchie la ditta che ha fatto questo scempio, che se n'è andata e ha abbandonato tutto, lasciando il manto stradale dissestato, distrutto, rovinato, stuprato. Passatemi questa espressione fortissima. Scusate, ma un sindaco, un assessore ai lavori pubblici, non doveva prendere la ditta e mettere la testa del responsabile della ditta, dico in senso metaforico, ovviamente, su questo tratto di strada distrutto, abbandonato? Ditemi voi se non è così. Guardate, ma non si tratta di un pezzetto, si tratta di un'estensione enorme, centinaia e centinaia di metri di abbandono. Ma non è solo la questione dei lavori operati dalla ditta. Questo è un classico che sta avvenendo purtroppo in tutta la città, ma vedere uno scempio del genere, parliamo di un'area pubblica, parliamo di buche, guardate quante buche ci sono. Si potrebbe quasi giocare a golf. Una, due, tre, quattro, cinque. Melucci, Melucci, questa è la rinascita che dici di aver seminato favole, chiacchiere, solo favole. Hai raccontato, hai saputo ingannare i cittadini, ingannare. E il quadro diventa sempre più pietoso. Guardate per esempio i marciapiedi. Melucci, ma fammi capire, un cittadino, un anziano, così sale sul marciapiede? Guardate i cordoli di pietra in che condizione sono. E prosegue ancora lo scempio. Guardate il verde pubblico. Ironicamente dico verde pubblico, perché qui è erbaccia. Cioè, siamo arrivati a questa situazione di scempio, i marciapiedi ricoperti di erbaccia. Eppure questi cittadini sono cittadini che pagano le tasse. Eppure, caro Melucci, questi sono cittadini a cui tu chiedi il voto, a cui tu dici di aver seminato la rinascita. Ma quale rinascita? Tu hai saputo seminare soltanto il degrado. Punto e basta. Mi sono candidato sindaco perché dopo vent'anni, oltre vent'anni di denunce giornalistiche, mi sono stancato. Questa città va rivoltata come un calzino. Gli assessori, il sindaco, i dirigenti, i funzionari degli uffici tecnici, devono sollevare il sederino dalla sedia e devono girare, girare, vedere lo scempio che viene combinato e intervenire. Sarò un sindaco di strada, poco seduto a palazzo di città e molto in giro. Taranto va rivoltata come un calzino e lo faremo insieme. Taranto va rivoltata come un calzino e lo faremo insieme. Taranto va rivoltata come un calzino e lo faremo insieme.